buongiorno a tutti e benvenuti sulla biblioteca nel bosco io sono letizia ed oggi sceglieremo insieme la mia tbr estiva devo dire che le tbr precedenti o meglio l'ultima in particolare quella primaverile si è rivelata molto deludente perché ho scelto dei titoli che non andavano bene e me ne sono resa conto proprio nel corso dei vari mesi quando dovevo scegliere effettivamente i titoli da leggere ogni mese perché io in quella tbr ho scelto essenzialmente i titoli che a naso mi sembravano più adatti per la stagione primaverile e invece no la tbr nel mio caso deve comprendere libri che effettivamente voglio leggere voglio scoprire in maniera più intensa degli altri che comunque sia mi attendono all'interno delle mie varie librerie perché va bene scegliere i titoli che magari sono adatti per quella stagione ma se poi non me ne frega niente di leggerli capite che non ha senso quindi questa tbr avrà tutto un altro sapore sceglierò esclusivamente i titoli che ho proprio voglia e sento di voler leggere in questi tre mesi anche se magari non mi richiamano necessariamente la stagione estiva ho comunque preso dalla vecchia tbr qualche titolo che effettivamente mi chiedo perché io non l'abbia ancora letto e quindi parto da loro nella tbr primaverile sono avanzati una cosa come una quindicina di titoli e io ho scelto questi tre allora partiamo con che la festa cominci di ammanniti è un libro che io ho già letto nel mio periodo scolastico e che mi era stato imposto motivo per cui non l'ho apprezzato ovviamente fatto sta che da quel che mi ricordo è una lettura estremamente grottesca e conoscendo i miei gusti attuali probabilmente potrebbe essere una lettura che mi farà volare altissimo ecco quindi ho deciso di inserirlo e magari ci facciamo anche un bel reading vlog per vedere come reagisco a questa lettura che ho tanto disprezzato poi ho preso sayonara gangsters di takahashi jenhiro ho anche un po di residuo di mal di gola ancora quindi già lo pronunciavo male prima figuriamoci adesso questa è una storia come potrei dire è una sorta di lettura sotto lsd in pratica praticamente ci sono tutta una serie di storie assurde ma è in realtà una storia d'amore tra due personaggi in fuga e io la trama di questo libro ve l'ho già letta diverse volte fatto sta che ci sono filosofi che si trasformano in frigoriferi e gatti parlanti che amano la vodka e cant ecco mi basta sapere questo e comunque sia niente io lo voglio leggere questo libro c'è in generale proprio indipendentemente dalla stagione lo voglio leggere come voglio leggere un libro molto aggressivo oserei dire night beach di che è il racconto di una donna diventata madre che perde completamente la sua identità perché tutti si aspettano delle cose da lei e lei sembrerebbe non essere in grado di accontentare tra virgolette le aspettative altrui fatto sta che però a seguito di questo suo cambiamento di ruolo durante la notte scopre di essere in grado di trasformarsi in un essere mostruoso è una visione della maternità tutta particolare che però mi ispira un sacco quindi queste sono le tre letture che io ho preso dalla tbr primaverile e speriamo di leggerle effettivamente in questi tre mesi ora sceglierò altri titoli dalla mia libreria ne sceglierò anche meno rispetto alla mia precedente tbr perché avevo un po' esagerato cioè ci avevo preso un po' troppo la mano a fare le tbr diciamo così ma poi mi rendevo conto che durante il mese poi sceglievo altri libri dalla libreria quindi non ha senso quindi per ora sono tre tanti comunque sia sono all'interno della tbr del mese quindi comunque sia ci sono anche altri titoli che sicuramente non riuscirò a leggere questo mese perché anch'io ho una vita e quindi niente vediamo un po' cosa esce fuori allora in primis prendo indubbiamente lui il cerchio di luce di andrea buttini che è il terzo volume della trilogia del sole pallido che ha avuto inizio con l'occhio del gufo il secondo in teoria io l'avrei messo nella tbr di questo mese vediamo se riuscirò a leggerlo fatto sta che se non riuscirò a leggerlo questo mese comunque sia anche quello finirà nella tbr primaverile e di conseguenza niente comunque lui ci sta perché vorrei finire la trilogia entro l'estate più che altro perché la storia fantasy mi era piaciuta molto è un grim dark quindi ambientato in un periodo medievale il protagonista è un cacciatore che però si ritrova in una situazione alquanto singolare in quanto sembrerebbe che gli animali siano quasi spariti dalla foresta e in contemporanea nel paesino avvengono delle faccende molto molto strane e inquietanti tra cui il figlioletto che comincia a avere degli strani attacchi di rabbia uno straniero che comincia a spargere sangue a destra sinistra e soprattutto dei pacificatori che sono appunto delle figure mandate da dei sovrani che tutto fanno tranne che portare la pace ecco come si suol dire quindi è una storia estremamente interessante ma io ho paura di dimenticarmela perché per quanto riguarda i fantasy ho anche una pessima memoria nonostante io l'occhio del gufo l'abbia letto giusto a novembre dell'anno scorso e comunque quindi ricordo ancora abbastanza ho paura di dimenticarmi qualche dettaglio importante quindi vorrei finire la trilogia il prima possibile per godermi l'esperienza a 360 gradi un altro libro che voglio leggere assolutamente è rovine di scott smith libro che in realtà attualmente in italia non si trova più perché è un fuori catalogo io l'ho recuperato su vinte da 5 euro per una botta di culo assurda vi assicuro che ci sono prezzi decisamente più alti e la voglia di leggere questo romanzo è nata essenzialmente dal fatto che giusto l'altra sera ho visto il film su netflix film decisamente splatter un horror di quelli che comunque sia andavano fino a qualche tempo fa cioè molto poco psicologici e tanto 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 violenti anche se devo dire la verità nel momento in cui ho visto il film ho avuto la sensazione di averlo già visto secondo me è stato uno di quei film che la mia adolescente di un po' di tempo fa ha guardato di nascosto magari che trasmettevano in tv a oraria tarda eccetera eccetera però non me lo ricordavo assolutamente quindi è stato devo dire un bel film cioè mi è piaciuto nel suo insieme e quindi vorrei leggere appunto il libro perché lo trovo veramente veramente interessante come tema parla praticamente di questi ragazzi che vanno in vacanza in messico e un giorno incontrano nel loro resort un altro ragazzo che è in cerca del fratello perché a quanto pare è andato per una spedizione verso delle rovine che si ritrovano appunto lì nella zona e non è più ritornato quindi seguono questo ragazzo questo sconosciuto quindi anche lì voi direte bravi furbi ebbene sì per andare a cercare il fratello ma succedono delle robe brutte ecco in sostanza molto brutte quindi nulla quindi sicuramente lui e poi vediamo cosa esce fuori ora avrà inizio la contemplazione perché questi due li ho visti subito prima proprio mi c'è caduto l'occhio ho detto ok loro due sì ora starò venti minuti davanti alla libreria per capire cosa prendere allora ho preso a sangue freddo di Truman Capote che è in realtà un reportage di un delitto molto molto efferato a sangue freddo è un libro che ho sentito decantare tantissimo e mi incuriosisce molto null'altro da dire è la storia di una famiglia che nel 1959 è stata brutalmente assassinata quindi nulla che altro dire sicuramente molto interessante e assolutamente nei miei generi quindi sicuramente lui poi un altro thriller che vorrei leggere non so perché sto andando tanto dietro ai thriller in questa TBR probabilmente perché nel periodo primaverile non ne ho letti manco mezzo cioè forse uno ne ho letto che non mi è neanche piaciuto tantissimo e quindi voglio recuperare con il tipico thriller d'ombrellone e questo è stato un libro tanto decantato l'anno scorso posto sbagliato, momento sbagliato di Gillian McAllister della Fazio Editore che appunto pubblica T.L.E. quindi di solito io mi fido molto anche se qualcosina che non mi è piaciuto comunque se l'avevo trovata all'interno di questa linea, di questa collana il fatto sta che questo è un racconto thriller veramente singolare infatti gioca tutto a ritroso infatti all'interno di questo thriller vediamo una donna che una sera vede l'amorevole figliolo prendere a pugnalate un altro uomo ovviamente rimane un attimino così come per dire ma che è successo cioè quello è mio figlio, com'è possibile fatto sta che nelle giornate successive a questo delitto lei si sveglierà non nei giorni successivi ma nei giorni precedenti quindi lei continuerà a percorrere a ritroso e a cercare di capire il perché il figlio sia arrivato a un gesto del genere insomma è una lettura che ho sentito decantare molto l'anno scorso ci hanno fatto un vero e proprio evento se non ricordo male e è piaciuto a tante persone che io seguo con piacere e di cui di solito mi fido quindi sicuramente lui potrebbe essere una lettura decisamente coinvolgente stacca cervello benissimo la scelta è stata talmente lunga che ho staccato direttamente la fotocamera comunque ho scelto altri 2, 4, 6, 7 titoli che quindi si vanno ad aggiungere ai 7 che vi ho precedentemente citato e quindi in totale fanno 14 titoli nella mia TBR estiva a me i numeri pari non piacciono però se considero che all'interno di questa TBR ci finirà quasi sicuramente anche il secondo di Buttini che vi ho citato prima quindi il secondo di questa trilogia fanno praticamente 15 quindi la mia coscienza è a posto fate conto che nella mia precedente TBR avevo inserito una cosa come una trentina di titoli cioè veramente esagerata come cosa ho scelto proprio quei libri che voglio leggere voglio dargli una chance perché magari sono lì da tanto tempo ma mi incuriosiscono tanto insomma sono andata proprio con il cuore e il primo libro che ho scelto è un saggio che in realtà io possiedo da tempi non sospetti da prima di creare tutte le mie librerie perché è un saggio che trovo perfetto per me in quanto Quiet di Susan Cain parla del potere degli introversi in un mondo che non sa smettere di parlare allora io non sono una grande lettrice di saggi tuttavia mi ero ripromessa di leggere almeno un saggio a stagione per comunque sia imparare cose nuove perché quando trovo il saggio giusto io vengo completamente accalapiata e memorizzo le cose con estrema facilità proprio perché l'argomento magari mi interessa di conseguenza comunque essendo di base una persona curiosa sono estremamente interessata al tema degli introversi perché io sono l'emblema della persona introversa perché appunto abito in mezzo ad un bosco dove non c'è nessuno non voglio che nessuno mi rompa le balle e stare a contatto con le persone per tanto tempo mi consuma letteralmente di conseguenza io sono proprio l'esempio più lampante quindi come potrei non essere interessata all'argomento è oltretutto un titolo che non sento citare spesso quindi nulla sono decisamente curiosa anche perché è un libro abbastanza corposo sono più di 350 pagine quindi credo che troverò tante cose interessanti o almeno spero poi per uscire un po' dalla mia zona di comfort ho preso un libro che tuttavia mi incuriosisce tanto nonostante io oggettivamente lo guardi e mi chieda che cosa mi sia saltato per la testa e sto parlando di The Love Hypothesis di Ali Asselwood sì, sì, un romance di quelli spicy con la ragazza che si innamora del professore figo eh, eh cioè passiamo da sangue freddo a lui cioè ci rendiamo conto vabbè, fatto sta che io in un precedente video forse più volte vi ho citato la mia volontà di provare a leggere romance più che altro perché sono quelle storie carine e simpatiche che sai, finiscono bene quindi tutto sommato puoi rilassare il cervello, no? dalle cose brutte della vita perché dici tanto sto leggendo una cosa che so che va a finire bene quindi sono tranquilla ecco, vorrei fare un reading vlog quando proverò a leggere questo perché secondo me sarà un'esperienza estremamente esilarante e vorrei fare dei reading vlog con spoiler proprio per farci due risate perché cioè, io lo so che non dovrei perché devo rispettare tutto nella vita però mi fanno proprio ridere io sono proprio l'adolescente che appena comincia a parlare di sesso si mette a ridere non ci posso fare niente è così e quindi, nulla comunque vorrei iniziare quest'estate perché mi sembra la stagione giusta comunque per iniziare a leggere queste cose un po' più frivole di solito quando arriva la stagione fredda mi viene da leggere roba un po' più cupa ecco, poi non che manchi all'interno di questa selezione però, nulla mi sembrava il momento giusto per iniziare inizieremo insieme e vediamo un po' come va in realtà un altro pseudo saggio che però non considero propriamente tale che vorrei leggere in questa stagione è Stai zitta di Michela Murgia e altre nove frasi che non vogliamo sentire più un libricino estremamente breve sono appena 100 pagine che parlano appunto di come noi donne siamo abituate a tacere perché ci hanno insegnato così e soprattutto di come gli altri soprattutto gli uomini si sentano in diritto di dirci che dobbiamo stare zitte soprattutto magari di non parlare di determinati argomenti ed effettivamente questa cosa mi tocca personalmente perché non molto tempo fa mi è capitato in una discussione di sentirmi dire di non dire una determinata parola che era una parola assolutamente innocua e mi sono resa conto che tutta questa volontà di non farmi parlare dell'argomento era dovuta al fatto che io fossi effettivamente una donna quindi nulla è una cosa che mi interessa veramente mi ha dato ovviamente molto fastidio e mi sono mangiata la persona che avevo davanti tuttavia, niente lo voglio leggere però non lo considero propriamente un saggio anche se lo è perché per me la murgia è stile di vita non è saggio ecco, semplicemente passiamo ora ai libri che sulla carta piacciono tanto a me quei libri truculenti quelli psicologicamente disturbanti e sto parlando del Signor American Psycho di Bratiston Ellis io di Ellis ho letto giusto a inizio di quest'anno le schegge che sì mi è piaciuto ma devo dire che mi aspettavo un qualcosina di più ma a detta di molti questo è molto peggio è anzi molto più disturbante anche di Anima di Majimi Muawad che è il libro che più di tutti mi ha veramente disturbato fino alla nausea che io tuttora considero un libro meraviglioso ma che mi ha veramente lasciato sconvolta proprio fisicamente dolorante e quindi niente sono molto curiosa perché molti invece lo mettono a paragone oppure lo ritengono ancora peggio ora non perché io voglio farmi necessariamente del male semplicemente comunque American Psycho è un libro che comunque viene inserito nella narrativa anche se forse potrebbe essere una narrativa molto molto disturbante forse andrebbe messo più negli horror non lo so di Patrick Bateman che è questo giovane bellissimo e di successo che a quanto pare ha un hobby molto molto violento e crudo di uccidere la gente la storia di American Psycho meno male la conosciamo tutti il fatto sta che io comunque voglio conoscere meglio Bretis Tonellis e perché non iniziare da lui o meglio sono partita dalle schegge ma forse non è stato il libro giusto anche se forse se questo grazie alle premesse mi piacerà di più forse è stato un bene perché magari potevo svalutare ancora di più le schegge quindi non lo so io mi sto facendo tutta una serie di film mentali in realtà non so se mi piacerà o meno questo libro comunque vorrei provare a leggerlo siamo agli ultimi tre libri e ho messo all'interno di questa lista anche una lettura che sembrerebbe essere una via di mezzo tra ciò che mi piace e ciò che non mi piace è una sorta di thriller romance come uccidere la tua anima gemella di L.M. Chilton che è un libro che in realtà è uscito abbastanza di recente e parla appunto di questa ragazza che una volta single decide di cercare la sua anima gemella nelle app di incontri il fatto sta che ogni volta che lei esce con una persona questa persona muore o scompare o non lo so comunque sia succede qualcosa di brutto a questa persona e cerca di capire il perché cioè letteralmente sai vuol dire che porti un po' iella oppure c'è qualcosa che non va sotto ebbene c'è un'indagine ovviamente da questa ragazza che cercherà di capire il perché succede quello che succede è un libro abbastanza rilassante secondo me c'è di testa un po' The Love Hypothesis ma meno cioè un pochino più nelle mie corde non è un romance canonico però si parla comunque di un mistero di sottofondo che a me interessano sempre anche questa è una lettura leggera ne ho sentito parlare comunque abbastanza bene ora non ho mai sentito pareri entusiasti di gente che l'ha definito un capolavoro ma ci mancherebbe anche però è quella lettura che dici sì vabbè non ho voglia di impegnarmi prendo lui passiamo ora agli ultimi due libri che in realtà sono due recuperi di delle precedenti TBR che non ho fatto perché nonostante sulla carta mi attirino molto ho sempre dato precedenza ad altro e sto parlando di Il mio anno di riposo e oblio di Otessa Moshfag che è appunto il racconto di questa giovane bella ragazza benestante che decide di narcotizzarsi per un anno ovviamente seguita da delle psichiatri che ritengono questa cosa un'ottima idea fatto sta che è ovviamente una denuncia alla velocità della società è una denuncia a come il mondo pretenda che noi corriamo sempre e comunque e lei invece decide di fermarsi trovo che sia un tema molto molto interessante e io appunto avevo addirittura già messo il segnalibro che ai tempi erano le mie forcine triangolari per appunto iniziare a leggerlo ma poi alla fine niente non mi sono mai decisa e questo se non erro era nella TBR autunnale dell'anno scorso se non invernale questo invece l'avete visto di recente Appunti sulla tua scomparsa improvvisa di Alison Estpac è un racconto molto toccante di una giovane ragazza che parla alla sorella maggiore defunta e praticamente è come se le raccontasse ciò che avviene appunto nella sua vita e in generale nella vita delle persone che conoscono a seguito appunto della sua scomparsa ecco è un libro che ho sentito decantare tanto è un libro che mi chiama in realtà da tantissimi mesi ed è un libro che addirittura in un certo momento ho avuto il dubbio di iniziare a discapito di un altro che invece era a metà poi voi mi avete convinto a terminare quel libro che avevo lasciato un po' in sospeso piuttosto che prenderne uno nuovo effettivamente col seno di poi è stata una scelta sensata fatto sta che questo libro a me è rimasto qua e se non erro proprio il mese scorso l'ho messo via perché ho detto oh se non lo prendo non lo prendo ma niente vorrei riuscire a leggerlo è sicuramente una lettura molto molto malinconica ma ce l'ho qui da gennaio almeno ve lo giuro e quindi prima o poi vorrei iniziarlo sicuramente sarà un libro che mi farà piangere io già lo so ma non vedo l'ora non vedo l'ora detto questo i libri sono finiti questa selezione è stata decisamente più contenuta ma sono contenta perché ho scelto dei titoli che veramente mi ispirano cioè che veramente voglio leggere e anzi forse sarà complicato nei mesi prossimi scegliere le letture proprio perché tra tante cose che ti piacciono tanto ci sarà forse un attimino più di lotta fatto sta che adesso andiamo al piano di sopra e li sistemiamo insieme sul suo palco nella loro postazioncina da tbr ovvia allora questa è la pila della tbr qua c'è la tbr dell'anno del 2024 vabbè la vedrete dopo quando leverò tutta sta pila qua e io in teoria dovrei far stare tutti questi qui ci proviamo ok risultato finale pensavo decisamente di aver scelto più libri ma sono contenta piano piano che li mettevo in ordine riconoscevo la mia voglia di leggerli anche se mi cringia un po' passatemi il termine The Love Hypothesis vicino a rovine a sangue freddo cioè proprio lo vedi che è fuori posto che non c'entra niente lì però dove lo metto niente perché io avevo bisogno di soddisfare i miei bisogni ossessivo compulsivi e penso di esserci riuscita mettendo le cose in ordine di altezza quindi questo è il risultato finale da qua in poi il libricino corto come divisione per separarli dalla TBR del 2024 io sono pienamente soddisfatta del risultato finale e mi sento poco soffocare nel senso che comunque sia effettivamente sono un numero decisamente più accettabile rispetto alle TBR precedenti quindi nulla questo è il risultato finale detto ciò noi ci vediamo la prossima volta fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è la vostra TBR estiva se ne fate una e detto questo buona lettura a tutti e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao